Ciao, ciao a tutti, buongiorno e buon pomeriggio, finalmente riesco a girare un video. Allora, vi spiego un po' perché sono assente in questo periodo, che sarà un periodo abbastanza lungo, ma è iniziata l'estate, in tutti i sensi è finita la scuola, è iniziato l'oratorio estivo e la nostra parrocchia ha organizzato dei tornei serali di pallavolo e basket e mi hanno chiesto di occuparmi della cucina. Io ho chiaramente risposto in maniera positiva, ma è stato ed è un lavoro davvero molto faticoso per me dal punto di vista psicologico, prima che fisico, perché devo organizzare tutti i turni per le tre settimane, cioè tutto il mese di giugno, delle persone presenti, devo riuscire a sostituire all'ultimo minuto magari chi ha avuto un imprevisto, devo fare la spesa e quindi è davvero impossibile trovare altro tempo per fare altro, perché poi chiaramente alla mattina sono in ufficio, il pomeriggio ho la casa, poi magari devo fare qualche commissione per mia mamma e per me e vabbè non si riesce a fare tutto nella vita e questo è insomma il motivo per cui da qui fino a luglio, ma poi a luglio andrò in campeggio con i ragazzi come cuoca insieme ad un'altra mia amica e alla sua mamma e a un altro amico, quindi ci sarà anche quel momento lì in cui sicuramente sarò assente perché ho visto l'anno scorso che ero partita bella contenta anche con le mie cose da fare, da leggere, ma alla sera svenivo nel letto e vabbè l'estate è un po' questa e ci rivedremo poi sicuramente con una frequenza più regolare da settembre in avanti, quindi tutto un po' ci saranno le vacanze, finalmente faremo anche le vacanze e quindi vabbè, ma va bene così insomma lo sappiamo che d'estate ci possiamo fare compagnia in maniera più dilungata e poi si ricomincia con l'autunno e con l'inverno dove saremo più a casa, dove avremo più tempo o almeno io avrò più tempo. Oggi però avevo davvero il pomeriggio abbastanza libero e quindi ho pensato comunque di fare un video per stare in vostra compagnia, per salutarvi, per spiegarvi un po' il motivo della mia assenza, qualcuno mi ha chiesto in privato se stavo bene, sto benissimo davvero, sto benissimo. Allora, diciamo anche che l'estate per me è la stagione più brutta proprio per quello che mi riguarda, io soffro di pressione bassa d'estate, d'inverno no, è alta, quindi chiaramente è anche la fine un po' dell'anno lavorativo, sono stanca, ho bisogno di prendermi i miei tempi, ho bisogno di rilassarmi soprattutto a livello mentale. Arrivo a giugno, fine giugno che sono davvero molto stanca, in più tutti i problemi ormonali legati alla menopausa mi danno davvero molto molto fastidio, non riesco più a truccarmi, oggi come vedete non è che sono truccatissima, ho proprio una crema colorata, una matita sugli occhi per non sembrare un fantasma, non metto neanche il blush perché tanto mi arrosso di mio e divento Heidi senza nessuna aggiunta di blush o di altro, quindi vabbè. L'estate di certo non è la mia stagione preferita, non mi piace, non mi è mai piaciuta e continuerà a non piacermi, il caldo mi fa star male, sudo in una maniera inverosimile, divento molto nervosa, rispondo male, sono nevrastenica e quindi capisco che ho anche bisogno di trovare dei momenti in cui mi devo rilassare e in questo momento l'uncinetto, il ricamo, la maglia stanno facendo il loro lavoro, quindi anche qui, insomma, non sono proprio in grande forma dal punto di vista della salute, ma per il resto va tutto bene. Oggi video dei prodotti finiti casa perché ne ho tantissimi e così poi butto via tutto e poi avremo anche il video dei prodotti finiti beauty perché anche lì è una marea. Ma iniziamo subito perché vi ho già rubato troppo tempo, dalla mia ho il fatto che farò meno video, quindi anche se sarà un po' più lungo voi mi perdonerete. Allora, ho finito il Dual Power Lavatrice Capi Scuri, lo sapete ormai da quando l'ho scoperto è il mio preferito, continua ad essere il mio preferito nonostante io abbia provato altri prodotti, lo trovo un detersivo per i capi scuri che mi mantiene comunque il colore sempre bello brillante e soprattutto io non ho più avuto problemi di odori magari sgradevoli, di bucato che anche se è asciutto o se è asciugato al sole puzza, insomma, e quindi ve lo consiglio caldamente. Io questo lo trovo solo al Penny Market, in nessun altro discount, come vi ho già detto, ma ne ho fatto scorta anche sul sito Top Store Cardarelli perché lì c'è e quindi quando non lo trovo al Penny lo trovo lì. Ottimo detersivo, consigliatissimo. Abbassiamoci. Poi ho finito questo Home Circus Detersivo Lavatrice, fresco pulito, qualità risparmio, un profumo davvero molto molto fresco. Questo è buono, davvero molto buono. L'ho utilizzato per i capi colorati, non propriamente scuri, ma anche per il bianco. Pulisce bene, ti regala un senso di freschezza sul bucato, mamma mia che bel colore. Qui il sole va e viene. Va bene, ma tanto non è che dovete vedere la mia facciona, vi faccio vedere detersivi, quindi va bene lo stesso. Molto molto buono, mi sono trovata bene. Questo io lo trovo al Tigotà, sicuramente lo ricomprerò. poi sembra abbronzata. Guarda lì che bel colorino. Provato e promosso questo ottimo ammorbidente di Tesori d'Oriente. L'ho trovato sia al Tigotà che su Top Store Cardarelli. Caldarelli, Caldarelli, Caldarelli. Allora, il profumo è quello di Tesori d'Oriente, il profumo nella bottiglietta di alluminio. Nella ammorbidente è sicuramente meno intenso, ma vi lascia i capi morbidi e profumati in una maniera di talco molto molto delicata. talcata, muschiata, però davvero molto molto buona. Un profumo di pulito, di capi morbidi, soprattutto sulle salviette, è top, super super top. Questo io lo ricompro e sicuramente anche se non lo trovo in sconto, perché mi piace davvero tantissimo. ho finito questo deodorante della Gled, perché ne avevo ancora in scorta qualcuno della marca originale, qualcuno della marca originale, ma questo è buonissimo. Questo sa di cocco, frangipane e la profumazione è Exotic Tropical Blossom. È buonissima, veramente veramente buonissima. molto 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 buona. Però ne ho trovati anche di sottomarche che fanno il loro lavoro e sono davvero buonissime. Oh la la, finiti 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 i miei preferiti. Il Finish Gel, Power Gel All In One, si dice così. Buoni, devo dire che è il mio detergente, detersivo per la lavastoviglie preferito. Poi ne utilizzo anche altri se li trovo in sconto, ma a me dà l'impressione che le stoviglie siano più pulite, che la lavastoviglie sia bella profumata, non ci sono incrostazioni, rimane pulita. Ottimo, ottimo, ottimo. Non so se poi ce n'è un altro, sì. Yes, ne ho un altro. Forse era un po' che non facevo questo tipo di video. Ed ora veniamo ai miei amati ammorbidenti ancora. Lenore Elixir, Sogno di Puglia. Allora, tutti i Lenore sono buonissimi. Tutti è buonissimo. ispirato all'illa bianco e calendula. Un profumo molto fresco, molto fiorito, ma non pesante, che rimane sui capi indubbiamente tantissimo, sia che li fate asciugare in asciugatrice perché il tempo fino a settimana scorsa, anzi fino a ieri, perché ogni sera qui a Lecco fa dei temporaloni, quindi non mi azzardo a stendere sul terrazzo perché poi mi rimane tutto bagnato, ma sono buonissimi. Peccato che costino così tanto. Quindi, da un punto di vista proprio economico, io li ricomprerò solo ed esclusivamente se li trovo in offerta perché 3,29 euro, 3,19 euro, alcune volte anche di più. Io questi li avevo trovati online su un sito di cui non ricordo il nome e li avevo pagati 2,99 euro. Però sono... Allora, 25 lavaggi per me no perché io la lavatrice è quella grossa da 8 chili e un tappino non mi basta. Però sono effettivamente molto cari, però ottimi, ottimi. Quindi se vi volete togliere lo sfizio, provateli perché sono davvero molto buoni. Questo me l'aveva portato a casa Mattia dal negozio perché si era spaccato il tappo e quindi non potevano più venderlo. Questo ha una profumazione risveglio di primavera, è buonissimo. È buonissimo, è buonissimo. E vale lo stesso discorso che ho detto prima per il Lenore. Sono effettivamente, caspita, davvero molto molto carico. Questo ve l'avevo già recensito in un video scorso, qui cadi giù tutto. E' forse uno dei più profumati, dei più intensi e devo stare attenta. Qui forse sì, basta per 25 lavaggi nonostante la mia lavatrice sia di 8 chili. Perché ragazzi, questo è intensissimo. Penso il più intenso. È una profumazione molto dolce, molto intensa, molto fiorita. Gensomino scarlatto e il gensomino si sente, si sente parecchio, però ottima, ottima veramente. Poi ho finito il mio amatissimo sapone ecologico per bucato della Sial. Un detersivo che va bene per tantissimi usi. Come diceva la mia amica Melania di Meli Made in Sud, io l'ho scoperto da lei. Lo utilizzo per pulire i pavimenti, lo utilizzo per lavare alcuna tipologia di capi, soprattutto quelli sporchi del lavoro di Mattia. Lo utilizzo per pulire il legno diluito in acqua. Insomma, secondo me è un mai più senza. È davvero un ottimo prodotto. Ottimo, ottimo, ottimo. Io purtroppo nei miei discount non lo trovo spesso e quindi lo compro esclusivamente online sul sito della Sial. Però è un detergente davvero, davvero multifunzionale. Fantastico, buonissimo. Poi che cosa abbiamo qui? Ah, ecco sì. Allora, devo dire che la differenza è proprio, proprio pochissima. Questi hanno ovviamente un prezzo superiore e io li compro esclusivamente quando sono in offerta da 3. Questo costa sui 3 euro qualche cosa, ma è molto, molto, molto buono. Infatti adesso ne ho in scorda due, questi della Conad, gel, lavastoviglie, tutto in uno, multifunzione al limone. Devo dire che è veramente, veramente buono. Sono sommersa dai detersivi. Smacchiatore all'ossigeno attivo della Aquam. Smacchia e igienizza ottimo. Ottimo, ottimo, soprattutto per i colletti delle camice, per i polsini, per i grembiuli sporchi di unto. Fantastico. Io questo lo trovo al Tigotà. Buono, buono, buono. Ha un prezzo leggermente superiore magari di tanti altri smacchiatori, però fa il suo lavoro e lo fa dannatamente bene. Ho finito il detersivo della Winnie's Natural lana e delicati. Lo so che ci saranno tantissime persone che amano questa marca, a me francamente non dice nulla. Ci sono dei detersivi per lana e per delicati di marche che magari non conosciamo, con i quali io mi trovo molto, molto meglio. Questo l'avevo comprato per provarlo. Sì, non hanno neanche dei profumi che mi piacciono. Più che un profumo è un odore, quindi no, non lo ricompro. Non mi piace. Potente ed efficace gel anticalcare per lavatrice, vero. Mi piace tanto. Questo penso di averlo trovato all'euro spin, poi mi correggerete voi. Buono, 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 buono. Lo compro ogni tanto. Devo dire che mi trovo bene con questo e anche l'altro che trovo alla Lidl. Mi piacciono tutti e due. Molto buono. Ora, eccolo qua. Questo era della Lidl o questo è dell'Eurospin? Non lo so, scegliete voi. Comunque questo per me è il mio preferito. Mi piace tantissimo. È disinfettante e secondo me è ottimo, 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 ottimo. Quando vado a fare la spesa nei vari discount, se trovo questo, lo compro di sicuro perché per me è il migliore. Mi piace tantissimo. Poi, siamo quasi arrivati alla fine, ragazzi. Ho finito questo di balea, che è quello che tengo sul lavello della cucina. Mi piace tanto. Lava le mani, le profuma e le igienizza anche dalla cipolla, dal pesce, da quegli ortaggi, dall'aglio che danno magari un po' di profumo, sì, perché io amo il profumo della cipolla, amo il profumo dell'aglio anche in cucina. Mi piace molto anche il sapore, però magari quando poi tagliate le mani, sulle mani rimane quell'odore, quel profumo che è un po' fastidioso, no? Se andate a sentirvi l'odore delle mani. Devo dire che questo è molto molto buono, ma ne sto utilizzando un altro che avevo sempre comprato, mi pare, sul sito della DM e mi sto trovando ancora meglio. Quando poi finirà ve lo farò vedere e ve lo consiglio. Però questo è ottimo anche perché per 1,69€ dura tantissimo, fantastico. Come faccio sapere che è 1,69€? Me lo sono scritto dietro col pennarello indelebile. Poi ho finito, ma queste vabbè non ve lo dico più, sono le mie preferite, sempre e solo queste, Home Circus, le mie tavolette per il WC con candeggina. Aiutano tantissimo a tenere il WC pulito, poi ovviamente ci vuole l'olio di gomito per lavarlo. E ho finito due, l'altro non so più dov'è, di questo profumatore della Glade per il profumatore quello più piccolino. È buono, molto buono, Relaxing Zen, ha un profumo molto fiorito, molto fresco, io ce l'ho sulle scale e quando si passa lascia un gradevolissimo profumo. Penso di aver finito e sono sicura di aver finito, ho fatto anche abbastanza veloce, vi ringrazio, vi ringrazio anche per tutto il supporto che mi date, per tutte le nuove iscrizioni che ci sono state, che spero non diminuiscano, nonostante i miei video magari siano un po' più dilazionati nel tempo. Avremo modo di vedere tante belle cose insieme, sto lavorando tanto a maglia e all'uncinetto per portare a termine alcuni progetti, ne ho iniziati di altri, avrei anche dei libri da farvi vedere, spero nelle prossime settimane, visto che adesso la prima settimana in cucina è stata impostata ed è andata ancora meglio di come me l'aspettavo, soprattutto perché ho un team di volontari che è davvero, davvero fantastico, che mi supporta, mi dà una mano e che fa il grosso del lavoro, ecco. La mente ci vuole ma ci vogliono anche delle braccia che sono disposte a mettersi a disposizione della comunità. Io vi ringrazio davvero per tutto l'affetto che sempre vi dimostrate, vi saluto e vi do appuntamento ad un prossimo video, spero settimana prossima. Un bacione, grazie e buona estate e buone giornate a tutti. Ciao!